Questo è il processo per Bancarotta che di gran lunga è il processo che vede la maggiore ammissione di parte civile anche rispetto ai tempi in cui scoppiò il caso Cirio, Parmalat. Sono oltre 2000 le parti civili ammesse al processo sul crack di Banca Etruria, tra loro anche la vedova di Luigi D'Angelo e il pensionato di Civitavecchia che si uccise quando venne a sapere di essere stato azzerato. Ammesso anche il comune di Arezzo per il grave danno di immagine arrecato alla città. Non c'è dubbio che qui all'interno del territorio retino c'è stato uno sconquasso non solo per i risparmiatori ma anche per il tessuto economico e avere riconosciuto sia il comune che questi 2200 risparmiatori ha un interesse specifico generale che indubbiamente non può essere sottaciuto. La prossima udienza sarà il 17 di maggio ma il processo entrerà nel vivo soltanto dopo l'estate. Sicuramente è un passo importante, speriamo che sia un passo importante perché qui dei passi importanti se ne fa uno avanti e due indietro, non si sa mai qual è veramente il passo importante. Se si riferisce ai soldi che ci devono rendere ancora è una cosa, sembra che dovrebbero ancora renderci un altro 15% per gli obbligazionisti e il 30% per gli azionisti. Però ancora penso che debba passare il tempo perché 60 giorni per l'approvazione, poi altri 3-4 mesi, 180 per... Sicché si va a fine anno sperando che nel frattempo non cade il governo e che vada tutto a monte. Con il danno morale non è che ci andiamo a risolvere i problemi né della salute né dell'identista né della colonoscopia. Ecco, tanto per essere chiari.